Ecco, raccontaci un po' che formato possono avere questi prodotti. Allora noi, diciamo, la gamma dei nostri lingotti vanno dal grammo fino al chilo. Offriamo ovviamente pezzature che possono coprire tutte le esigenze di portafoglio, quindi dal più piccolo investitore al più grande investitore. Abbiamo ovviamente allargato questo tipo di produzione a servizi, perché non basta soltanto fornire l'investimento, quindi il lingottino, ma anche il servizio, per esempio, di custodia, piuttosto che abbiamo ovviamente anche delle monete che non produciamo ovviamente noi, ma che compriamo dal mercato, quindi dalle zecche mondiali o dal mercato. E offriamo anche un conto in oro, che è praticamente un conto in grammi d'oro, che permette all'investitore piccolo o grande che sia, di ottenere due possibilità. Il primo per l'investitore più piccolo è quello di poter arrivare ad una auspicata, quindi voglio investire un chilo ma non lo posso fare subito, lo fraziono e lo faccio con il mio conto. E per il grande investitore di poter invece comprare l'investimento desiderato in grammi d'oro a più prezzi, quindi mediare delle quotazioni nell'arco temporale che desidero. Questo è un po', diciamo, a 360 gradi, il servizio offerto della nostra divisione rovilla. Cioè, quindi una platea abbastanza ampia, direi molto ampia. Una platea assolutamente ampia, che parte dal piccolo investitore, ripeto, quindi fai conto un lingotto da 10 grammi, siamo intorno ai 370 euro oggi, un lingotto da un chilo è 37 mila euro, quindi spaziamo da portafogli che vanno dai mille a 37, 100 mila o 500 mila, secondo del tipo di investimento che vuoi fare. Molto interessante poi questo piano d'accumulo che proponete, di modo che se uno non ha una determinata disponibilità, diciamo, nell'immediato, comunque è anche una sorta di investimento. Assolutamente, poi permette proprio, rispecchia un pochino, quello che è l'obiettivo dell'oro fisico in realtà. Quindi permette anche eventualmente di accumulare grammi d'oro, di poter prelevare lingotti nella forma desiderata quando l'investitore deciderà o il risparmiatore desiderà di poterlo prelevare, ma soprattutto permette anche, cammin facendo, laddove c'è necessità di avere liquidità immediata, visto che l'oro fisico è proprio questo il suo pregio, avere un asset class che permette proprio la liquidità immediata, poter convertire questi grammi d'oro in liquidità. Quindi direi che è molto apprezzato anche dai piccoli, ma anche dai grandi investitori. Nei grandi investitori abbiamo scoperto invece che è un servizio molto apprezzato, perché qualcuno dice, ok, voglio investire un 100.000 euro o 300.000 euro, lo voglio fare in più frazioni, a più momenti di quotazioni, per cui mi permette temporaneamente di poterlo utilizzare, questo conto, poi prelevare il mio investimento che avrà una media di prezzo che è ben conosco, per cui questo è un vantaggio. Quindi se è una sorta di pianificazione? Sì, è una pianificazione però molto libera. Noi non vincoliamo a temporalità o a quantità, ognuno fa a modo suo e soprattutto lo fa attraverso un portale in cui è libero di poter accedere alla sua piattaforma, quindi in area riservata del nostro portale orovilla.com, ma anche direttamente con i nostri consulenti interni, e poter accedere ai suoi ordini, piuttosto a fare i suoi investimenti come desidera, con maggiore flessibilità possibile. Quindi questo non vincoliamo.